Eccoci qua, abbiamo aperto lo slime Ciao ragazzi Adesso Merissa ha detto che lo deve manoprare Però la intro Ah scusate, vai Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sto manovrando un cotton slime Che abbiamo preso in un video precedente Se non l'avete visto magari Mamma puoi mettere il link per farlo vedere? Certo, lo farò Marca DINIT Abbiamo ricevuto un pacco con un sacco di cose di questa marca E li abbiamo spacchettati Per queste cose c'era anche questo slime Merissa lo stava aprendo subito Poi le cadeva tutto dalle mani Allora abbiamo pensato di farlo in un secondo momento Cioè ora Mamma Sì Per favore mi vuoi dare un po' di forbici? Un po' di forbici? Sì Scusa Ecco la forbice, cara Grazie Sì Adesso Ok Le poline di polistirolo Ma non è meglio che le metti qua dentro Che questo è un contenitore più grande? Mi pare un po' meglio Vabbè dopo le rimettiamo tutte nelle slime O nell'aspirapolvere No Palline, palline ovunque Vabbè mamma Il Oddio Guarda saltano Saltano Allora Qui le palline Ce ne ho ancora Comunque sa Sono vive Sono vive queste palline Guardate Guardate Si muovono Si muovono Oddio Si muovono dal sole Perché si muovono? Sono fatta Ormi No È successo un disastro E quindi Buttiamo tutto dentro questa No Ecco Allora Buttiamo tutto dentro questa bacinella Anche le palline Tutte le palline Forza Le palline vive Palline vive Entrate Vai Entrate Si muovono dal sole Si Carica elettrostatica Oddio Sarà impossibile prenderle Ce la vedremo per tutta casa Perché poi loro vanno da sole Si muovono da sole Vabbè Tanto mamma Passerà con l'aspirapolo Esatto Le ore di duro lavoro Abbiamo messo un po' E tante sono rimaste sul tavolo Ma Non è che ci possiamo Saranno nell'aspirapolo Si Ecco qua E' proprio un cotto Un slap No Fantastico E' meglio della Della sabbiolina Che dei gatti Ogni tanto Ogni tanto Vedo una pallina Che vola Non so Per Vabbè 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 Ti muovono Ragazzi Vabbè Guardate davvero Noi non ci siamo Tutto Tutto Volano pallinucchi Ah Guardate Guardate Si ruotano Tipo le pulci Pulci colorate Non sono pulci Si saltano Saltano Come le pulci Eh lo sa ma Ehi Scappa 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 Guarda Si sta Compattando Tantissimo Si sta Compattizzando Compattizzando Fissa Ti manda a scuola Amore Però A giocare Con questa qua Ah è un cotto Slime Cotton Crunch Slime Chi l'ha pensata Questa cosa Ah L'ha pensata Il sito Di Dove Abbiamo preso Slime Dimit L'ha pensata Dimit Dimit Voglio capire Perché L'hai Perché Hai pensato Di fare Questo Che questo Abbinamento Io Non dico Che è brutto Però Un po' Un po' Stravaga E' stravaga Era una specie Di nina mamma Perché è molto Dilassante Per te No Questa è la nostra Nuova nina mamma No è proprio Bello Vedere Tutte le sue palline Che si muovono E al suo unicorno Che ha Va bene Allora È giunto l'ora Di chiudere Ciao a tutti Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Da 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 Ma piace Giocare Nell'online Addio Cutetama Ciao ciao Ciao